Eccoci qua pronti oggi per l'unboxing di questo gioco di Luma World Il nome è Xing, come sempre la scatola è rettangolare e contiene le informazioni relative al numero di anni da cui più si può giocare 9, durata del gioco 30 minuti, da 2 a 6 giocatori La scatola dietro come sempre ci presenta Academy Skill, Moral Value e Life Skill E poi ci dà una piccola panoramica di che cosa è contenuto nel gioco Giriamo, apriamo e vediamo cosa troviamo Come sempre, ne abbiamo già aperti un po' Troviamo la Luma World Qua dentro troviamo uno spinner direi Un tabellone con uno spinner E il regolamento Con, sembrerebbe anche degli esempi Abbiamo quindi Una volta aperto Troviamo qua un tabellone con tanti bei numeri 3, 4, 5 Un tabellone 10x10 con dei numeri e questi simboli Xing E poi, apriamo e troviamo Vediamo cosa troviamo qui Pronti ad aprire Troviamo Dei token 14 per tipologia Hanno anche dei simpatici nomi Acqua, fuoco e terra Ovviamente in base ai colori Quindi Acqua, fuoco e terra Cuo, shui e tu Letti dalle regole E poi abbiamo delle carte Un bel mazzo di carte Contenuto in questa scatola Che ci ricorda anche Simpatico Le informazioni del gioco Abbiamo Delle carte Fuse Abbiamo delle carte Fuse E delle carte Atomize Adesso le giriamo Hanno un po' di scrittine Contenuto di Xing Di cui presto troverete La recensione Sul blog www.giochisunnostrotavolo.it www.giochisunnostavolo.it 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 Grazie a tutti.